Oggi parliamo di Ben ritrovati sulle frequenze radio Calaritana cari ascoltatori, io sono Roberto Sedda e come sapete in questo nostro appuntamento settimanale che venò da il giovedì alle 19.10 e il venerdì in replica alle 8 e mezza del mattino, noi parliamo i libri, in particolare di libri gialli già ormai da qualche settimana. Questa volta ho scelto un personaggio forse non molto noto ma secondo me indimenticabile che ci consente anche di proseguire sulla linea che abbiamo inaugurato la settimana scorsa quando abbiamo parlato di Philip Marlowe, creato alla pena Raymond Chandler, un investigatore privato che si muove nella giungla d'asfalto di Los Angeles, di Hollywood, tutti quanti abbiamo visto i film come Free Bogart, abbiamo un'idea di che cosa stiamo parlando. La settimana scorsa vi ho detto che quel tipo di genere, pur essendo rimasto in voga e vedendo anche in questo periodo delle uscite nuove degli autori che si muovono su questa linea, però si è comunque trasformato perché quel tipo particolare di società degli Stati Uniti tra gli anni 30 e gli anni 50 è chiaramente tramontato. Allora ci potremmo chiedere ma oggi se Philip Marlowe facesse l'investigatore come lo farebbe? E se Philip Marlowe facesse l'investigatore non negli Stati Uniti ma in Europa che tipo di personaggio sarebbe? Beh, tre romanzi che presentiamo stasera in qualche misura rispondono a questa domanda perché noi abbiamo un personaggio che si chiama Fabio Montale che è un poliziotto poi prenderà altre strade, io cerco sempre di non raccontarvi particolari alle trame per cui cerco di non fare anticipazioni però diciamo nel primo romanzo Montale è un poliziotto successivamente non proprio e vive a Marsiglia per cui siamo in un ambiente completamente diverso dalla Los Angeles degli anni 50 i romanzi sono ambientati sostanzialmente negli anni 90. Marsiglia come sappiamo bene è una città che ha una sua storia dal punto di vista della letteratura o comunque dell'immaginario forse non proprio giallistico ma diciamo noir. Tutti quanti abbiamo visto i film sui marsigliesi, Alain Delon, sappiamo le storie, sappiamo che c'è stata e c'è una criminalità marsigliese vera per cui dire che Fabio Montale vive a Marsiglia già ci fa immaginare tutto un vissuto, tutta una dimensione narrativa in cui possiamo già pensare che certe cose si svolgeranno in un modo piuttosto che in un altro. In realtà lo sforzo che fa l'autore che è Jean-Claude Itzo è uno sforzo di anche liberarsi un po' da questa tradizione anche ingombrante per andare invece a raccontare delle storie molto più attuali. Cerco di spiegarmi anche con un esempio. Marsiglia è presente anche nella letteratura francese anche non giallistica in molte occasioni per esempio non so quanti si ricordano che l'inizio del conte di Monte Cristo, un classico dei classici della letteratura francese, si svolge a Marsiglia e mette in scena, se ci pensate, un contrasto, una presenza di diverse comunità perché queste sono le caratteristiche di Marsiglia. C'è il quartiere spagnolo a cui appartengono alcuni dei personaggi del conte di Monte Cristo e c'è poi la parte francese e già lì si intravede che comincia a crearsi un altro quartiere che è il quartiere italiano. Ecco il romanzo di Itzo prende le mosse da un'amicizia tra un ragazzo del quartiere italiano che è Fabio Montale, un ragazzo del quartiere francese, un ragazzo del quartiere spagnolo, ma trasfigura le loro storie in una Marsiglia dove in realtà la situazione è diventata molto più multiculturale, ci sono gli immigrati magrebini, la città è completamente cambiata. Così anche le storie e criminalità che vengono raccontate non sono più quelle della vecchia Marsiglia ma sono molto nuove, si va verso l'arrivo della mafia e così via. Vi racconterò meglio di che cosa intendo parlare dopo la pausa musicale. Ho scelto un brano di un gruppo francese che si chiama Noir d'Isir, Levan nous porterà, che è, credo, un brano che a Fabio Montale con i suoi gusti multiculturali sarebbe molto piaciuto. Levan nous porterà. Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati dopo la nostra pausa musicale con i Noir d'Isir, noi stavamo parlando di gialli marsigliesi, in particolare dei tre romanzi di Jean-Claude Itzo dedicati alla figura di Fabio Montale. Mi viene in mente adesso e forse si dovrebbe dire Fabio Montale, però scusate non riesco a infliggermi in questa punizione. Credo anche opportuno, non lo faccio mai, ma in questo caso sono solo tre titoli per cui penso che si possano elencare esplicitamente. Il primo è una parola marsigliese che è ciurmo, che vuol dire stare insieme, verrebbe tradotto perfettamente in sardo come totus in pari. Il ciurmo è la ciurma, cioè quelli che stanno insieme sulla barca, che si danno insieme da fare. Poi c'è un secondo romanzo che è tradotto, mi scuso per le sensibilità di alcuni, che si chiama Casino Totale, che in francese è Total Cheops, che è una parola intraducibile di fatto. E il terzo invece è un nome proprio Solea. Io consiglio caldamente di leggerli in quest'ordine. Ciurmo, Casino Totale e Solea. Cosa stavo dicendo? Allora, abbiamo detto che questi romanzi si svolgono in una marsiglia che è una marsiglia attuale, una marsiglia che affronta i problemi della Francia degli anni 90. Problemi che Izzo conosceva bene perché era un militante di Pax Christi. Ciurmo, scusate, Izzo aveva una forte dimensione di impegno sociale che nasceva da una militanza cattolica e si era occupato di movimento per la pace, di emarginati, di accoglienza e così via. Tutti questi temi li trasfigura nei suoi romanzi. Questi vedono Fabio Montale nel consueto ruolo per questo tipo di romanzi di un personaggio da solo in lotta contro tutti. E man mano questa lotta, che in qualche modo si trasforma da un romanzo all'altro ma viene trasportata, anche se i cattivi sono di volta in volta diversi, ma il tipo di cattivi è un po' sempre lo stesso, sono quelli che opprimono. Sono quelli che per la violenza delle loro ideologie, per la violenza del loro voler essere approfittatori, per il loro egoismo, sfruttano, uccidono, minacciano, fanno il male. Alla fine dietro tutti questi il punto d'arrivo naturale è la mafia che sta sbarcando a Marsiglia e questo porta in sole a un ultimo drammatico confronto in cui Montale è progressivamente da solo. Nel primo romanzo c'è certo una dimensione della polizia positiva che, anche se lui è un cane sciolto, comunque fa da cornice, fa da sostegno. Questa dimensione è già molto anacquata. Nel secondo romanzo si fa quasi nulla. Nel terzo avete capito un po' dei termini che ho usato, emarginazione, vicinanza, oppressione, solidarietà, che c'è una forte dimensione etica in Itzo. Questa è una dimensione che, come vi dicevo la settimana scorsa nei romanzi di Chandler, Philip Marlowe, l'investigatore privato, mantiene una propria addirittura morale anche in una situazione in cui la corruzione è ampia. Questo è vero anche per Fabio Montale, ma Itzo aggiunge una dimensione in più, che è un giudizio tagliente sul mondo, in cui da una parte veramente stanno le persone che sono rispettose dell'uomo e dall'altra stanno invece quelli il cui comportamento è inaccettabile. Questa è addirittura etica, una dimensione forte, che non c'è purtroppo in alcuni imitatori successivi di Itzo e che si è un po' persa in quello che poi viene considerato il giallo mediterraneo, il noir mediterraneo e che ha una serie di altri autori interessanti come Enrico Pandiani, come Massimo Carlotto, per citare anche un autore molto vicino a noi geograficamente e così via. Io rispetto al noir mediterraneo vi consiglio di leggere direttamente Itzo, sono sicuro che ne vale la pena e ve lo consiglio caldamente. Anche se potrebbe essere interessante fare un raffronto con un altro scrittore, diciamo dall'altra parte del golfo, cioè a Barcellona, Pepe Carvaglio di Manuel Vasquez Montalban. Ma come sapete il tempo è tiranno, non ho tempo di dilungarmi su questo paragone. Invece vi do appuntamento alla settimana prossima in cui parleremo di un investigatore famosissimo, il commissario Maigret. Vi ricordo che noi possiamo tenerci in contatto tramite il blog www.robertoseda.it e che, oggi parliamo di libri, ha anche una sua pagina Facebook, per cui cercateci, cliccateci, fate amicizia con noi. Noi ci sentiamo la settimana prossima, fate buone letture, mi raccomando. Grazie a tutti.